Siate Vangeli Viventi. 28 giugno 1973. Figli di Letti, tanto cari al mio cuore, siate benedetti e la pace e la grazia siano sempre in voi. So che voi mi amate e soffrite nel vedere il male che regna nel mondo. Vorreste cancellarlo per sempre dalla vita degli uomini e vi rammaricate di poter fare troppo poco. Qualche volta la vostra azione e la vostra parola non riescono a raggiungere nemmeno i vostri familiari, che vedete lontani da voi e da me. Ma io vi dico. Non dubitate della mia potenza. Datemi tutto ciò che è in vostro potere. I vostri sospiri. Le vostre lacrime. Le vostre pene giornaliere. Datemi l'umiliazione di non aver saputo educare. Di non aver saputo far apprezzare l'anima. Di non aver saputo far conoscere quanto sia pericoloso vivere in peccato. Datemi queste vostre sofferenze. Le preghiere. Il lavoro. Le opere buone. Io vi prometto che a queste piccole cose aggiungerò la mia forza divina e si avranno delle trasformazioni. Vorrei. Oggi. Dirvi quanto desidero la vostra perfezione. Vi ho detto nel Vangelo che chi ascolta la parola di Dio e non la mette in pratica è come colui che costruisce la sua casa sulla sabbia. Viene la pioggia. Il vento. La bufera e la casa cade con grande rovina. Voi. Che venite qui. Dovete mettere delle solide basi alla vostra vita spirituale. È la casa di Dio. Che dovete a poco a poco costruire. Così vorrei che. Pietra su pietra. Crescesse questa casa. Crescesse la vostra santità. Quando ascoltate la mia parola o quella della madre mia. Vorrei che ogni volta vi scolpiste nella mente anche solo una frase e che la faceste oggetto della vostra meditazione. Ad ognuno io parlo ed insegno. Qualche volta insisto perché si corregga un difetto. Qualche altra perché si acquisti una virtù. Saper ascoltare equivale a saper imparare. Quando poi la lezione appare chiara. Non bisogna attendere oltre. Poiché potrebbe sopraggiungere la dissipazione e ciò che nella preghiera e nell'ascolto vi ha colpito potrebbe essere distrutto. La prontezza nell'eseguire e il desiderio di approfittare di questa abbondante grazia. Vi devono far progredire. Sono come due remi che. Agitando le acque. Conducono l'anima vostra verso il porto. Ho tanto desiderio che vi santifichiate. Perché la santità è il solo richiamo che fa presa sulle anime. Una santità basata sulla pratica della parola sarà mezzo di conversione anche per gli altri. Vorrei che foste dei Vangeli viventi. Quando i miei apostoli andavano per il mondo a predicare. Secondo il comando ricevuto. Potevano parlare della mia vita. Passione. Morte e risurrezione. Ma quando i pagani domandavano. Che cosa dobbiamo fare? Gli apostoli rispondevano. Fate come facciamo noi. Così si insegna e si convincono i cuori. Può darsi che qualcuno resista alla grazia e non voglia cedere alle amorose insistenze di una madre santa. Di un padre coscienzioso. Ma viene un momento. Forse quando i genitori sono già scomparsi dalla vita terrena. In cui si riflette e si torna sulla buona strada. L'esempio che tanti figli hanno avuto torna lampante al loro sguardo e resta in loro. Come un sogno da tradurre in realtà. La vita che i genitori hanno santamente condotto. Ecco perché ancora insisto. Costruite la vostra casa. Quella della vostra santità. Su basi solide e tenete salda la vostra fiducia e la vostra fede. Vi era a Gerusalemme una piscina detta probatica. Le cui acque venivano agitate da un angelo. Chi vi veniva immerso per primo. Dopo che le acque erano state smosse. Guariva dalle proprie infermità. Voi siete venuti qui. Qualcuno. Come angelo. Vi ci ha portato e voi avete capito molte cose da quando frequentate questo luogo. Vi è stato detto. Pochi giorni fa. Che dovete essere nel mondo come angeli precursori. Oggi vi dico. Siate coloro che agitano le acque. Siate. Cioè. Coloro che. Dopo aver appreso. Portano altri a quest'acqua salutare. Coloro che introducono le anime in questa piscina di grazia. Di fede ed amore. Nessuno ne uscirà senza averne beneficio. Anche se non sempre immediato. Figli. Vi amo e questo amore voglio comunicarvelo. Siate generosi. Vedete quanto si soffre. Nell'anima e nel corpo. Attorno a voi. Non vi bastano le vostre braccia. Il vostro cuore. La vostra mente. L'anima vostra. Per aiutare tutti. Chiamate la madre mia in vostro soccorso. Chiamate tutta la corte celeste. Chiamate le anime purganti. È un grande esercito al servizio di Dio e vostro. Che vuole aiutarvi a realizzare i vostri desideri. Vi benedico nel nome della Santissima Trinità e vi benedice Maria. Regina degli Apostoli.